Luci rosse e caritas, tutti sanno cosa vuol dire luci rosse, luci rosse vuol dire filmetti porno, porno, porno e tutti sanno che cos'è la caritas, la caritas è una istituzione benevola dove si elargisce un piatto di minestra calda a quelle belle brave girl che hanno voluto fare i quattrini facendo il porno e poi ovviamente sono finite nella valle della disperazione che è la miseria più nera per cui queste belle brave girl devono andare a mangiare un piatto di minestra calda alla caritas che è un'istituzione benevola e che si basa sulle sette opere di misericordia corporale cristiane dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignuti, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi visitare i carcerati e seppellire i morti, ma numero uno c'è dar da mangiare agli affamati, un piatto di minestra calda siccome io sono Serafino Massoni e sto sul web da tantissimo tempio, i social che frequento sono tanti io frequento soprattutto il grande social Twitter, perché il grande social Twitter mi permette di stare in contatto con tutti i giornali italiani e stranieri, con tutte le televisioni italiane e straniere con tutte le società culturali italiane e straniere, perché io uomo di cultura sono vedete che qua è scritto che io sono uomo di cultura per cui su Twitter vedo sempre le luci rosse, sì sì, gratis, che sia chiaro, gratis, lo ribadisco, gratis tu su Twitter puoi vedere i migliori filmetti rossi, luci rosse, che sono lanterne rosse, gratis, gratis, gratis senza vendere neanche il becco di un quattrino, ed ora mi sono imbattuto in un sito bellissimo dove c'è una brava girl che fa chiaramente delle cose eccezionali, fa di quelle fellazio, di quelle fellazio, incredibili e poi viene portata pure a Sodoma e Gomorra, a Sodoma e Gomorra, a Sodoma, a Sodoma e Gomorra e qua si spoglia nuda, qua sta in cucina che prepara il pranzetto e qua c'è una cosa orribile, qua c'è una cosa orribile altro che, altro che, che cosa, come si chiama Onlyfans altro che Onlyfans altro che Onlyfans che devi pagare su Onlyfans qua non paghi niente, vedi tutto e di più, vedi qua, qua, cose mostruose, cose mostruose cosa fa questa girl, cosa fa una cosa mostruosa roba da Sodoma, Sodoma, la città maledetta che fu sprofondata per ciò che avveniva e qua, ancora qua, cose, cose, cose allucinanti tutte cose allucinanti e uno dovrebbe andare a spendere i quadrini su Onlyfans ma no, ma non ci andate voi su Onlyfans ma andate su Twitter, andate retta a Serafino Massoni che è una persona saggia eccolo qua Serafino Massoni eccolo qua e questa è l'ultima opera di Serafino Massoni guardate che spettacolo La cometa dell'imperatore un romanzo storico ambientato ai tempi del grande imperatore Federico Reondo di Svevia Hohenstauen, Altavilla che fu imperatore del Sacro Impero Romano Germanico ok boys e voi girl che volete fare i quadrini facendo il porno l'avete capita l'antifona? l'avete capita l'antifona? se vi buttate sul porno sul porno e prima o poi finite nella valle della disperazione che è la miseria più nera e poi per fortuna che potete andare a mangiare il piatto di minestra calda alla Caritas che è un'istituzione benevola benevola ok cari amici per cui a tutti voi tanti cari saluti da la cometa dell'imperatore grazie Grazie.